La cerimonia si è tenuta al Beverly Hills Hotel di Beverly Hills, Los Angeles, in California, ed è stata condotta da Seth Meyers, che ha fatto battute su molestie, tra Kevin Spacey e Harvey Weinstein. I premi sono stati assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, associazione che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv. Le categorie per il cinema sono 14 e i premi sono divisi in base al genere del film. Protagoniste indiscusse della serata sono state le donne, tutte vestite di nero e con spilla del movimento Times A per riferimento al movimento Me Too. Oprah Winfrey ha ricevuto il Cecil B. The Mill Award, il premio alla carriera. L'attrice ha parlato dello scandalo sulle molestie sessuali. Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando hanno osato raccontare la loro verità sul potere di certi uomini, ma questo tempo è finito. Da sempre considerati come indicatori in vista degli Oscar, i premi hanno registrato molte sorprese e qualche conferma. A vincere sono state comunque le storie al femminile. Candidato contro giganti e favoriti come The Post di Steven Spielberg e The Shape of Vuote di Guillermo del Toro, tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh ha vinto da Outsider. Premio al film, alla sceneggiatura, all'attrice Frances M. C. Dormand e all'attore non protagonista Sam Rockwell. Stessa sorte per il film tutto al femminile Lady Bird, nella categoria miglior commedia o al, diretto dalla regista Greta Gerwig con la giovane Saurice Ronan, protagonista e vincente come attrice. Gary Oldman ha portato a casa il premio il miglior attore protagonista in un film drammatico per la sua interpretazione di Churchill nell'ora più buia e Guillermo del Toro si aggiudica quello per la regia per la forma dell'acqua. Tra gli altri premi, James Franco ha vinto come miglior attore protagonista in una commedia per il suo Dei Disaster Artist dell'Isognani e è risultata la migliore attrice non protagonista per Itonia. Il miglior film straniero è stato decretato in The Fade di Fati Akin con Diane Kruger, ispirato agli attentati neonazisti realmente accaduti in Germania tra il 2000 e il 2007. Arriverà nelle sale italiane a marzo con il titolo Oltre la notte. Tra i discorsi da ricordare quello di Francis M.C. Dormand, sapete che tengo per me le mie idee politiche ma è stato fantastico essere qui stasera e partecipare a questo spostamento teutonico, le donne che sono qui non lo sono certo perché si mangia gratis.